Ivan Zenzironi, l'ante della rovere di Pasquale Fabio Canino, l'ante della rovere di Pasquale Carolyn Smith, Lucrezia Consimone Guillermo Mariotto, la presenza Io ammiro Lucrezia, è bellissima per me Grazie Ma tu Mariotto, perché tu sei cacosca di voi con me? Io sono pazzo di te, pensa A me piace, però le gambine vanno come le papere, amore, devi correggere quei difetti Cacosca Tutto qui, non è cacosca Tu vorrei sapere cosa pensare al mondo di questo risultato della giuria? Ma guarda, io, Lucrezia è stata bravissima Io per quanto riguarda la mia coreografia preferisco vederla sempre il giorno dopo Perché ballando questi piedi li vado a vedere io, non è che finisci qui Casomai ci vediamo sabato prossimo Però diciamo che gli altri tutti due a due, due a due Io dico, è stata caruccia, almeno qualcosina, però va bene Comunque, in questa sfida c'è stato un giudizio secco da parte della giuria Ed è ria ad aver ribaltato il giudizio della giuria Non ci posso credere Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti